e voilà la ville lumière si come vedete siamo a parigi pronti per il salone dell'auto con tutta la squadra di omniauto.it vi faremo vedere le ultime novità le auto più belle più strane più costose insomma seguiteci sul speciale che abbiamo fatto sul sito di omniauto.it sul canale youtube con tutti i video live e sui social facebook twitter e google plus e allora a bienton l'art di triomphe, le chancellise, l'amor